Qui si narra la triste storia di Astorre con l'erbaglione e del martirio di Famagostra, cosa di molti lati. Qui si narra la triste storia di Astorre con l'erbagliamento. Qui si narra la triste storia di Astorre con l'erbagliamento. Il regno si nobile e si caro com'è Cipro. Ma se non volesse dare soccorso, non avremo noi il signor Astorre, uomo intrepido, cavaliero coraggioso, capitano prudentissimo e generale sapientissimo. Anche se io sono Ginevra del nobile sangue dei salviati, non sono riuscita a salvare il mio Astorre. Mi prostrai davanti al principe di Venezia che non tenea conto del pericolo corso dei suoi fedeli servitori in Cipro. Sarei andata io che non tenea per amore del mio sposo Astorre quei mostri orribili della guerra, del mare, del turco. Sarei andata io se mi fosse stato concesso il moto. Primeramente Mustapha lo caricò di grandissime villanie, ma egli non si risentiva. Poi mi fece tagliare gli orecchi. Egli non si voleva. Lo fece ignudo condurre nella piazza. E vivo, vivo, con caso di umano, lo fece scorticare. Nella città o nobile sangue.